Il tempo passa anche per lui, dai. Comunque ancora è 97, ricordiamo. La mattina, prova l'imbucata la mattina! Comunque dico, allora, le migliori azioni sono partite intanto dai suoi piedi, c'è poco da fare. No, non ha avuto la bella idea, ma guarda che la mattina a me piace Antonio. È un ragazzo che va, insomma, deve prendere fiducia in se stesso e poi ha delle belle giocate, dai. Certo, comunque, le migliori giocate tecniche che provengono da uno che comunque fa della fatica al suo forte, c'è anche quanto dire, oggi è tutto da riscrivere sotto il profilo delle convinzioni calcistiche. Rappa di testa, attenzione, anticipato Gianmanco, fuori gioco. Ancora bravo Premuta. Pollara. Premuta e l'altro. Ma i portierini bravi, dai. I portierini non titolari, perché il titolario dell'Arcamo, ricordiamo, è Conticelli, un altro ex. Ex, certo. Attenzione, palla buona per Picone. Non è fuori gioco. Io questa cosa la odio, che ti devono fare fare 100 metri e poi fischiare. Il tempo ti fanno vedere un infarto e mezzo e poi devono fischiare. Ma dai, alza la prima, è fuori gioco, fischia prima. Se non interviene sul pallone, ma si è visto che si è messo in moto. Ma queste sono le cose che ti fa la Lega per farti uscire pazzo. Perché nel calcio non c'è bianco o nello.